L'ite condominiale 58 anni uccide a coltellate un 35enne in via Costa Mezzana Santa Margherita Ligure un uomo è morto ucciso a coltellate da un vicino di casa per questioni condominiali sul posto è arrivato il personale medico del 118 ma per la vittima non c'è stato nulla da fare l'aggressore è stato medicato all'ospedale di Lavagna per le ferite riportate nella collutazione avvenuta prima dei colpi mortali sulla vicenda indagano i carabinieri Alessio Grana l'uomo di 35 anni ucciso dal suo vicino Sergio Frisinghelli è stato colpito almeno due volte con un pugnale da caccia sul pianerottolo del condominio di edilizia popolare sulle alture di Santa Margherita Ligure e quanto emerso da un primo sopralluogo dei carabinieri sul luogo del delitto avvenuto sabato sera in via Costa Mezzana nella casa dell'artigiano giardiniero di 58 anni infatti non sarebbero state trovate tracce ematiche riconducibili all'aggressione Grana sabato sera ha iniziato a picchiare alla porta del suo assassino con un mattarello di legno quando Frisinghelli gli ha aperto la porta lo avrebbe colpito a quel punto l'artigiano avrebbe preso il pugnale da un cassetto e lo avrebbe colpito ma fuori dalla sua abitazione il giovane è poi scappato per le scale dove sono state trovate alcune tracce di sangue sui gradini ma anche alle pareti una circostanza che gli investigatori coordinati dal pubblico ministero Luca Scozza Azzara vogliono approfondire per capire se Frisinghelli abbia colpito la vittima anche mentre scappava una prima risposta potrà arrivare dall'autopsia che sarà eseguita dal medico legale Camilla Tettamanti per i legali dell'assassino l'avvocato Claudio Zadra si tratta invece di un eccesso colposo di legittima difesa il giardiniere ha avuto paura per sé per la moglie che era in casa è stato aggredito tanto che è stato portato in ospedale dove gli è stato riflettato un trauma cranico da alcune scoriazioni al braccio poi lui stesso ha chiamato i soccorsi e col 118 al telefono ha provato a rianimarlo il pubblico ministero ha mandato oggi al GIP la richiesta di convalida dell'arresto che verrà fissata tra domani e dopodomani avevano scelto i boschi di Bergassana a Sesta Godano per poter spacciare lontano da occhi indiscreti ma l'attività è stata notata da alcuni residenti che hanno avvisato i carabinieri dopo alcuni appostamenti militari sabato notte hanno individuato e arrestato due uomini di origine marocchina e residenti a Massa Carrara una pattuglia ha intercettato una Renault con a volo due uomini i due hanno provato a scappare e dopo un inseguimento i carabinieri di Sesta Godano e Borghetto Vara sono riusciti a bloccarli nel corso della perquisizione sono stati trovati e sequestrati un netto di hashish, 40 grammi di cocaina e 8 grammi di eroina oltre a 3000 euro in contanti a bordo dell'autovettura i due avevano anche tutto il necessario per l'attività di spaccio nel bosco coltelli, nastri di cellofan, un bilancino elettronico e un gruppo elettrogeno altigianale Sarà la Virtus Entella a gestire lo stadio comunale di Via Gastaldi a Chiavari società che ha offerto 60.000 euro di canone all'anno compensabile con un piano di investimenti pluriennale come previsto dal bando gli uffici comunali provvederanno alle necessarie verifiche di legge e alla giudicazione definitiva entro il primo settembre si conclude così la lunga hrl tra il patron della società biancociolesta Antonio Gozzi il sindaco di Chiavari Federico Messuti sulla gestione dell'impianto che aveva portato la Virtus Entella a notificare per due volte il ricorso al TAR per l'annullamento previa a sospensione degli atti con i quali il comune di Chiavari aveva indetto le gare per l'affidamento della gestione dello stadio comunale gare che erano state definite dal club di Via Gastaldi inaccettabili e manifesto di un atteggiamento discriminatorio dell'amministrazione comunale nei confronti della società dopo mesi di discussione con il comune è passata la nostra impostazione quella di una società che ha investito in gentissime risorse private proprio in uno stadio di proprietà comunale che vi investirà ancora tanti soldi nei prossimi anni lo si legge in una nota della Virtus Entella grazie agli sforzi del club, prosegue la nota, la struttura pubblica è stata costantemente adeguata e valorizzata e la principale squadra cittadina ha sempre potuto giocare sul proprio campo di casa nel rispetto delle prescrizioni degli standard strutturali imposti dalla federazione e dalle leghe ci apprestiamo alla fase di stesura del contratto che confidiamo possa concludersi in modo positivo ovviamente, conclude la Virtus Entella, saremo concessionari dello stadio comunale soltanto una volta espletata questa ultima procedura Lettera delle associazioni ambientaliste Liguria al ministro Picchetto Frattin che dovrà decidere a breve la proposta di Regione Liguria di un decreto istitutivo che tra le altre cose determinerebbe i confini definitivi della nuova area protetta il Miniparco Nazionale di Portofino la lettera appello con la quale si chiede al ministro di ascoltare i soggetti competenti e i territori sostenendo la proposta di ANCI tra gli altri dai presidenti Liguri di Lega Ambiente e Italia Nostra, WWF Italia dopo oltre 4 anni dall'istituzione del Parco Nazionale di Portofino il ministro si troverà sul tavolo a una proposta di Regione Liguria di decreto istitutivo che tra le altre cose determinerebbe i confini definitivi della nuova area protetta la cui superficie sarebbe di circa 1000 ettari contro una media nazionale di territorio protetto per singolo parco di circa 68.000 ettari e a fronte del fatto che il più piccolo parco nazionale, quello delle 5 terre ha un'estensione di 3850 ettari un parco così sottodimensionato, prosegue la lettera non giustificherebbe una struttura quale quella di un parco nazionale sarebbe un vero spreco di risorse secondo gli ambientalisti la proposta di Regione Liguria non tiene conto di una serie di fattori pareri scientifici come quello di Ispra il parere degli amministratori locali che attraversano ANCI hanno fatto una proposta di mediazione proponendo un parco nazionale a 7 comuni includente i 3 comuni dell'ex parco regionale il parere di Federparchi che ha sostenuto la proposta di ANCI le politiche europee di protezione dell'ambiente l'auspicio dello stesso ministro di una soluzione condivisa che ponga fine anche al contenzioso giurisdizionale se si affermasse la volontà di Regione Liguria prosegue la lettera si rinuncerebbe alla realizzazione di un ente di area vasta portatore di importanti finanziamenti facciamo appello alla politica e in particolare al ministro perché affermi la centralità di un'etica pubblica come riferimento per le proprie scelte ascoltando i soggetti competenti ai territori il turismo in Liguria salvato dagli stranieri nello specifico soprattutto dai visitatori provenienti dagli Stati Uniti d'America lo spiega in una nota regione Liguria che passato ormai ferragosto fa il punto sul turismo estivo in vista di settembre ci aspettiamo di chiudere la stagione 2023 con un ottimo livello di presenza e numeri importanti resi possibili grazie alla destagionalizzazione su cui abbiamo puntato in questi anni spiega il governatore Ligure Giovanni Totti con gli italiani che tornano a viaggiare dopo il covid le località di prossimità come la Liguria lavorano più sui fine settimana lunghi i mesi primaverili e giugno e luglio rispetto alla pausa lunga di agosto e questa è stata la nostra arma vincente ad agosto la Liguria ha evidenziato una lieve flessione del turismo italiano ma si tratta di un calo comunque lieve non certo paragonabile ai gridi di allarme lanciati da Emilia e Puglia che parlano di meno 30 e meno 20% ed è ancora Totti a spiegare come il mercato turistico Ligure cresca grazie agli stranieri in particolare da oltreoceano che sempre più numerosi scelgono la nostra regione per le loro vacanze e siamo molto soddisfatti della nostra stagione indicazioni confermate anche dall'assessore regionale al turismo Giovanni Sartori Continuano con frequenza quasi giornaliera se negli ultimi sette giorni gli interventi di soccorso sul promontorio di Portofino ieri ad essere soccorsa è stata una donna di Genova di 75 anni che si è infortunata ad una caviglia nel sentiero che va da Portofino-Culma se la tocca il primo ad arrivare è stato l'elicottero dei vigili del fuoco Drago che ha vericellato e gli soccorritori e medico una volta appurate le condizioni dalla donna la squadra di terra giunta da Rapal i uomini del soccorso alpino e spiologico della Liguria l'hanno accompagnata fino ad un'area idonea dove l'elicottero l'ha vericellata a bordo per il trasporto in ospedale sul posto erano giunti anche i militi della Croce Verde con una piccola ambulanza idonea al passaggio nei stretti sentieri del parco il Ministero della Salute ha emanato un avviso per ondata di calore in Liguria l'avviso è stato emesso per le giornate di domani e dopodomani martedì 22 e mercoledì 23 agosto il livello è rosso comporta condizioni elevate di rischio persistenti temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute in particolare su anziani bambini e persone con malattie croniche si raccomanda di osservare regole utili a prevenire i rischi si deve evitare per quanto possibile di uscire e comunque di prolungare l'esposizione nelle ore più calde della giornata vale a dire dalle 11 alle 18 a dire